Siamo a pochi giorni dal termine dei campionati del mondo di Berlino su pista, siamo con Silvio Martinello per fare un po' il punto di quello che abbiamo visto in pista a Berlino. Cosa intanto ti ha impressionato di più? Direi che è stata un'edizione dei campionati del mondo su pista molto interessante, che ha regalato delle prestazioni veramente molto molto impensabili fino a qualche mese fa. e tra coloro che sono stati i protagonisti ci sono anche molti azzurri e questo chiaramente ha reso tutto più felice e più ricco di soddisfazioni per i colori italiani e per chi ha la passione per questa disciplina. Fortissimi i danesi, bene Ganna, bene Consonni, forse Viviani un po' oscurato? Sì, Elia ha dedicato forse troppo poco tempo nel preparare questo evento, questo importante evento. Il suo momento topico della stagione per quanto riguarda la pista saranno i giochi olimpici. Credo che comunque intelligente come è saprà ricavare da questa esperienza berlinese tutti gli elementi necessari per focalizzare al meglio l'appuntamento con Tokyo. Un quartetto azzurro che comunque è in aria di medaglia? Sì, un quartetto azzurro che ha fatto cose molto importanti, tra l'altro credo che al di là della meritatissima medaglia, che comunque è il giusto premio per una squadra e per un tecnico che da anni stanno lavorando con grande impegno e con grande capacità. Credo che ci siano tutti gli elementi, ecco lo stesso discorso l'abbiamo fatto per Viviani, che sia aumentata la consapevolezza che già c'era, ma insomma sia notevolmente più radicata sui ragazzi e su tutto lo staff della nazionale, che ci siano delle concrete possibilità di ottenere qualcosa di importante. Senza dimenticare che Marco Villa, fortunatamente credo che questa sia una situazione nuova per lui, si trova a lavorare con abbondanza. In campo femminile Letizia Paternoster come la migliore Antonella Bellutti? Sì, anche se con caratteristiche diverse, naturalmente tra le due atlete Letizia Paternoster si è confermata ad altissimo livello, nonostante la sua giovane età, nonostante l'incidente che ha subito quest'inverno, quindi anche lei è una preparazione che a un certo punto ha dovuto interrompere, si è confermata in assoluto il nostro migliore elemento e la capitana, la caposquadra di un gruppo molto giovane questo, con cui sta lavorando Dino Salvoldi, che ha fatto anche per rimanere nel quartetto, nell'inseguimento a squadra dei passi in avanti, anche il quartetto femminile, anche se obiettivamente ci sono almeno quattro nazionali, quattro rappresentative, che sono Nova Zelanda, l'Australia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che almeno sulla carta sembrano più solide delle nostre. Certo che in prospettiva, quindi andando un po' più in là, pensando anche a Parigi 2024, il gruppo giovane con cui sta lavorando Dino Salvoldi è un gruppo molto interessante, anche in prospettiva futura, quindi anche dopo Tokyo. Quanto pesa a questa Italia, secondo te, la mancanza di un impianto sicuro? C'è Montichiari e Mezzoservizio, Spresiano che è fermo con i lavori, l'esempio di Miriam Vece costretto ad andare a lavorare a Degel. Ma sì, sono due ragionamenti diversi, secondo me, ovvero la mancanza di un impianto, insomma il recupero di Montichiari negli ultimi mesi è stato fondamentale e lo sarà chiaramente anche per preparare la trasferta olimpica. Rimane sempre scandaloso, a mio modo di vedere, che un paese, parlo non solo ciclisticamente parlando, ma un paese importante come l'Italia non abbia un impianto a tutti gli effetti, insomma, degno di questo nome, o non abbia più impianti nei vari territori del paese per poter sviluppare questa disciplina che a livello olimpico propone ben 12 specialità. Per quanto riguarda Miriam Vece, qui è un discorso, secondo me, un po' diverso, perché Miriam Vece avrebbe potuto allenarsi, come fanno tutti gli altri, è che da noi manca proprio la cultura della velocità e quindi per svezzare il talento che, insomma, non le è mai mancato, da oltre un anno fa parte del gruppo di atleti che si allenano a Degel nella struttura dell'Unione Ciclistica Internazionale, nata per sostenere le federazioni con poche possibilità e quindi gli atleti più talentuosi di queste federazioni, di questi paesi, vengono invitati appunto a Degel per sviluppare il loro talento, per svezzare il loro talento e per studiare, quindi a fare sotto tutti i punti di vista un percorso sia sportivo che personale, scolastico, degno di questo nome. Ecco, che ad essere costretta a farlo sia un'atleta italiana, insomma, a me sfugge perché non ci sia questa attenzione verso questo settore che delle 12 medaglie che ci sono in paio di Olimpiadi, ben sei appartengono al settore della velocità. Invece il grande risultato, la medaglia di bronzo, chiaramente lo è, ma sottolineerei anche il gran tempo che ha fatto nei 200 metri lanciati in qualificazione del torneo della velocità, poi si è fermata di fronte ad atleti più esperti di lei perché nel testa a testa, insomma, devi lavorare anche con l'esperienza e con l'accume tattico che evidentemente, insomma, ancora le mancano, però Miriam invece ha fatto vedere come un anno di lavoro sia stato sufficiente per arrivare ai livelli a cui è arrivata. All'indomani della chiusura dei mondiali di Berlino, l'UCI ha annunciato il cambiamento in vista del 2021. Si parla di World League, si parla di un circuito fondamentalmente chiuso per pochi specialisti. Sì, ho letto questa novità, insomma, direi che la cosa importante, la cosa positiva, a di là del fatto, insomma, che dare dei giudizi ancora prima che un progetto parta, è sempre qualcosa di rischioso, ma così di prima acchito, importante intanto la firma di un contratto di otto anni con un network televisivo, Discovery, quindi Eurosport, per quanto riguarda, insomma, ciò che conosciamo noi a livello sportivo ciclistico e quindi questo è importante per dare il giusto risalto e la giusta rilevanza mediatica all'evento. Ho il sospetto che si tenda, che si continui a tendere a circoscrivere ai soli specialisti il ciclismo su pista e questo, a mio modesto parere, è un errore perché, insomma, io ho vissuto periodi in cui, per esempio, il mondo delle sei giorni era molto più in salute di quanto non lo sia in questo momento e al botteghino faceva cassa, faceva cassetta il campione della strada o, diciamo, anche lo specialista della pista che comunque aveva anche una certa notorietà come stradista. Ecco, il fatto di circoscrivere o perlomeno continuare ad andare nella direzione, di rendere sempre più specialistico il settore, a mio avviso non è la scelta migliore. Silvio, nel 2021 si festeggeranno i 25 anni di Atlanta 1996, un bellissimo oro da ricordare, ma nel 2021 ci sarà anche il turno elettorale della Federazione Ciclistica Italiana. Si sa, si vocifera di un tuo interessamento a questa possibile campagna elettorale, che cosa ci puoi dire? Ma intanto non avevo pensato ai 25 anni, cominciano ad essere tanti, non avevo pensato ai 25 anni, sono tanti ma è ancora un ricordo ben presente, ben vivo. Ma insomma, ormai non è un segreto che ci sono, insomma, intorno alla mia persona tante sollecitazioni. Io non nego che sto facendo i miei ragionamenti su questo impegnativo progetto, perché comunque al di là dell'impegno nella corsa all'eventuale candidatura, poi c'è da pensare che se le cose dovessero anche andare bene o male, dipende dai punti di vista, c'è anche una grande responsabilità, chiaramente, che ci si carica sulle spalle. In ogni caso sto riflettendo con la necessaria attenzione a questa eventualità. L'appuntamento è ancora abbastanza lontano, perché insomma c'è tempo fino alla metà di marzo del 2021 per convocare l'Assemblea da parte dell'attuale Presidente, però non nego di pensare seriamente a questa eventualità, ed eventualmente dare soddisfazione ai tantissimi che mi stanno sollecitando a prendere questa decisione. Credo che sia prematuro in questo momento prendere una decisione vera e propria, ma sia comunque importante capire che tipo di, diciamo così, reazioni ci possono essere ed è quello che sto facendo, incontrando chiaramente tanti operatori del settore, da Presidenti di società, da Presidenti di comitato, di comitato provinciale, organizzatori e quant'altro. Devo dire che i riscontri, fermo restando la sincerità che ognuno può mettere in queste situazioni, sono riscontri insomma dove mi si invita comunque e mi si sollecita ad andare avanti e a, diciamo così, sciogliere queste riserve che comunque in ogni caso non ho intenzione di sciogliere prima della prossima estate, insomma perché sarebbe assolutamente prematuro farlo e poi perché, come dicevo, voglio riflettere attentamente su queste ipotesi.